Gesù ha detto avevo fame, avevo sete e mi hai aiutato. Oggi potrebbe dire anche ero abusato, sfruttato, schiavizzato e mi hai soccorso. Lo ha sottolineato Papa Francesco ricevendo il gruppo Santa Marta, l'organismo internazionale contro il traffico di esseri umani che ha voluto istituire nel 2014. Serve un impegno concertato, fattivo e costante sia per eliminare le cause di questo complesso fenomeno del traffico di esseri umani, ha aggiunto il Papa, sia per incontrare, e assistere e accompagnare le persone che cadono nei lacci della tratta. Ha quindi incoraggiato il gruppo, coordinato dal Presidente Cardinal Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster, a proseguire nell'impegno di contrastare la piega sociale della tratta di persone, legata a nuove forme di schiavitù, le cui vittime sono uomini e donne, spesso minorenni, sfruttati approfittando della loro povertà e demarginazione. Il numero di queste vittime, ha concluso il Pontefice, cresce purtroppo ogni anno. Sono i più indifesi ai quali viene rubata la dignità, l'integrità fisica e psichica, persino la vita.